l'american cup è la regata più importante più popolare più così più alta del mondo della vela io sono molto contento degli sviluppi che ci sono stati in questa edizione perché comunque finalmente sono si useranno delle barche moderne super tecnologiche ma soprattutto veloci e quindi penso che sarà una bellissima un bellissimo evento e ci divertiremo molto vederle regate la volvo sean race il giro del mondo in equipaggio una regata bellissima molto avventurosa quest'anno purtroppo non c'erano molte barche è un po il problema di tutti nel senso che il mondo sta cambiando se diventa sempre più difficile finanziare delle delle imprese che spesso sono diventate molto molto costose quindi oggi la volvo ocean race cerca di rinnovarsi hanno deciso di fare una classe monotipo per la prossima edizione quindi cercano di tendenzialmente abbassare i costi